esce Lijicic della Fiorentina, guardate Delio Rossi va proprio ad aggredire il giocatore, non pago, va sopra proprio Lijicic prima ha applaudito il suo allenatore, poi deve avergli detto qualcosa da lì ha perso la testa Delio Rossi, Vincenzo D'Amico e Mario Sol No, non voglio nemmeno commentarlo Mi aspetto le dimissioni Mi dispiace perché ho una certa confidenza, insomma, no, no, ma assolutamente da condannare Non avevate mai visto un episodio simile o così? Negli spogliatoi qualcosa è successo, negli spogliatoi però, allontano dalle delle camere Allora, a fine partita cosa deve fare secondo voi Delio Rossi, cosa dovrebbe fare la società e anche mettetevi nei panni del giocatore Allora, l'allenatore ha il potere e quindi con il potere può decidere qualunque cosa senza arrivare a questi gesti Questi sono gesti estremi che non vanno assolutamente fatti L'allenatore è un uomo di equilibrio, deve dare equilibrio in tutte ed esempio in tutte le situazioni Io a fine partita mi aspetto le dimissioni di Delio Rossi Sì, ok Mario, però tu sostituisci un uomo di equilibrio